Potremmo andare in Italia per aiutare un po' l'economia, capito? Ah, è vero. Per esempio, però in Italia dove? Ah, può andare in Liguria. In Liguria? Sì, in Liguria. Guardi, abbiamo dei posti bellissimi, guardi qua. No, bellissimo. Eh, questi, guardi qua che posti. Però io volevo andare al mare. Al mare, al mare, al mare. In questo periodo è stupendo, non c'è nessuno. Spiagge deserte, non c'è traffico. Che bello. Ma tra tutti questi posti fantastici qua, in quale potrei andare, per esempio? No, guardi, scelga uno qualsiasi, tanto il posto poi non corrisponde mai a quello che trova sul Debian. Perché è più brutto? No, è molto più bello. Il Debian non si sentono gli odori della Liguria, i sapori. Ma questo qua, per esempio, quanto costerebbe questo? Questo, questo ce l'abbiamo in offerta, questo è bellissimo. Questo ce l'abbiamo in offerta, 5 mila euro tutta la settimana, tutto compreso, albergo, viaggio. Che stupendo. Allora, è bellissimo, però è un po' cara questa Liguria. Ah, no, non è la Liguria che è cara, siamo noi, l'agenzia, la maggior parte fa tutto l'agenzia. Ah, è la vostra politica? Sì, no, è proprio la mia politica personale, sto mettendo un po' di soldi da parte, mi voglio sposare. Ah, auguri alla sposa? Sì, grazie. No, non c'è una sposa, non c'ho neanche la fidanzata, lo faccio così, per il futuro non si sa mai, capito? Che previdente! Ma, vabbè, però è un po' cara. No, no, ma qui c'è l'offerta, eh. Ah, c'è l'offerta? Qui c'è l'offerta, due per uno, lei può portare una persona con sé. Ma io sono sola. Ma vengo io. Viene lei! Ma sì, che problema c'è! Ok, allora, ok. Va bene. Emerson, partiamo, partiamo, tutti. Tutti mi dobbia.